Un importante traguardo sportivo è stato raggiunto da un giovane valdianese, studente al liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Ottavio Passerini, della classe terza C domenica scorsa alla Naples Cup quinta edizione, ha infatti vinto il primo premio nella categoria Calisthenics Under 18. Importante affermazione dunque per il giovane atleta originario di Sanza, allenato da Sabino Fico. Grande soddisfazione è stata espressa dall'Istituto Pisacane, congratulazioni al nostro alunno della classe terza C Ottavio Passerini, primo classificato alla Naples Cup quinta edizione, nella categoria Calisthenics Under 18, scrivono dal liceo, spiegando che il calisthenics è l'arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. Poi i complimenti, costanza, passione e sacrificio, bravissimo, affermano dalla scuola. Una passione assoluta quella di Ottavio per il calisthenics, la cui pratica fu documentata in uso già nell'antica Grecia, ad esempio negli esercizi di Alessandro Magno o degli Spartani nella battaglia delle Termopili. Calisthenic è il sinonimo inglese del termine italiano calistenico o calistenico, aggettivo che si riferisce al noto metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, oppure ad uno specifico esercizio o workout. Il calisthenics ha lo scopo di aumentare la forza, la flessibilità e la mobilità articolare sotto sforzo, la produzione, la tolleranza all'acido lattico e la resistenza specifica di breve durata, la capacità funzionale di esercitare forza e migliorare la forma fisica generale attraverso movimenti come tirare, spingere, piegare, saltare o oscillare usando il proprio peso come unica resistenza. Il calisthenics avanzato poi può essere finalizzato ad aumentare capacità specifiche come leve particolari e vari movimenti freestyle come rotazioni e giravolte.